Eccoci pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dalla riete. Se nel lavoro non è andato tutto come previsto, non demoralizzatevi, ma concentratevi sui vostri punti deboli, magari facendo un corso di aggiornamento. Toro, non lasciate che lavoro e affari occupino tutto il vostro tempo. Anche la dolce metà ha diritto a un po' di attenzione. Coccolate il vostro partner, stategli vicino. Gemelli, il lavoro sembrerà più facile e scorrevole, tutto grazie alla speciale intesa che riuscirete a stabilire con un vostro collaboratore. Per qualcuno potrebbe anche essere amore a prima vista. Cancro, le stelle portano buone notizie. Per gli studenti potrebbero essere prove superate brillantemente, per chi lavora aumenti di stipendio o, se è improprio, nuove alleanze commerciali. Leone, il partner potrebbe trascurarvi a causa della professione, ma invece di rimproverarlo, fatelo sentire compreso. Gli darà la carica giusta per raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Vergine, saranno giornate incantate queste che possono diventare un terribile inferno. Tutto dipenderà dal vostro comportamento, ultimamente incostante e incoerente. Bilancia, se siete in vena di progetti per la vita a due, è un ottimo momento per affrontarli insieme alla dolce metà. Nonostante gli sforzi, non riuscirete a convincere quel familiare a mettersi in affari con voi, non demoralizzatevi. Scorpione, momento di grandi decisioni, sia per ciò che riguarda la professione, sia per la vita privata. Cambiamenti di attività, esami scolastici, avanzamento di livello, matrimonio, nascita di un figlio. Sagittario, quanti di voi hanno deciso di dichiarare i propri sentimenti alla persona amata, approfittino della serata di oggi. Le stelle sono decisamente dalla vostra parte e vi daranno un valido aiuto. Capricorno, avrete bisogno di tanta grinta oggi per non lasciarvi mettere i piedi in testa da un collega che cerca di buttarvi addosso una grana professionale. Riuscirete o a rispedirla al mittente oppure a risolverla. Acquario, se avete in mente una scappatella fuori programma, fate attenzione, il partner insospettito non vi leverà gli occhi di dosso. Dedicate il tempo libero al bricolage, vi darà tante soddisfazioni. Pesci, cercate di essere più aperti nei confronti delle persone che vi stanno intorno, in particolar modo con il partner. Dimostrategli che siete capaci di grandi slanci di passione. Cominciate a pianificare già la prossima settimana lavorativa. Questa sarà molto facile da affrontare. Grazie a tutti.